Ciao a tutti e benvenuti nel canale. Questa piccola luce led fa una luce bestiale non me lo sarei mai aspettato guardando le dimensioni si tratta della Wuben E7 fa una luce da 1800 lumen non vi voglio abbagliare non vi voglio abbagliare ma vi abbaglierò considerando che è di giorno è una luce pazzesca pazzesca veramente pazzesca è la prima volta che l'ho accesa sono diventato cieco per 30 secondi perché io come uno scemo che bella che bella l'ho accesa e me l'avevano sparata in faccia perché non mi aspettavo completamente una luce così forte Wuben mi ha mandato questa luce led per testarla e per farvela conoscere già conoscevo il brand e fa torce e luci led veramente per ogni situazione e per ogni esigenza questo è un modello piccolino ma ci sono anche torce enormi da non so quanti mila lumen dei fari immensi che fanno luce pazzesche in abbinamento a questo a questa e7 ora vi farò vedere tutti nel dettaglio mi ha mandato anche il p1 che sarebbe la fascia da testo dal metto e anche il ap40 che è un sensore di movimento o di gesture per poter comandare la nostra lampada e7 senza dover andare a cercare il tastino qua sopra ma non sono solo questi gli accessori da abbinare a questa lampada ve li dirò nel corso del video prima di avvicinare la telecamera vi ricordo che in descrizione vi lascerò il link per acquistare dal sito ufficiale della Wuben questa lampada attualmente viene venduta a 22 euro e non mi sarei mai aspettato nemmeno un prezzo così basso per una lampada di questa qualità 2780 prezzo base 22 euro scontato però guardate sempre la descrizione perché questo prezzo può variare e poi soprattutto se Wuben mi fornirà un codice sconto ve lo lascerò in descrizione avviciniamo la telecamera e vediamo le caratteristiche allora intanto arriva in questa confezione dove poi togliamo quest'altra confezione dove all'interno abbiamo cavo usb per la ricarica praticamente quando lo carichiamo si accende questo led ora è azzurro ma si accenderà di rosso quando è in fase di carica un manuale di istruzioni un laccetto che io non ho messo per ora ma va messo sul tappo della base e due o-ring di riserva per la battuta che fa il tappo questa è la nostra lampada led guardate che piccolina tutta in alluminio è molto resistente un gancio in metallo molto duro parte superiore la porta gommata che va proprio ad abbracciare vedete tutta la porta usb di tipo c per la ricarica i due led della osram e il vano batteria ci accediamo svitando il coperchio di fondo qui vediamo lo ring e questa è la batteria inclusa che è una batteria piccola come dimensione 18 350 da 1100 mAh abbiamo la possibilità di utilizzare anche le batterie 18 650 quelle più grandi per aumentare l'autonomia comprando un accessorio questo qua che è una specie di extender vedete si mette tra il corpo della lampada e il tappo e serve a poter utilizzare le 18 650 vedete questa è la differenza e costa solo 9 euro e devo dire che comunque nonostante la qualità anche gli accessori oltre alle lampade anche gli accessori hanno un prezzo veramente ottimo la parte inferiore del tappo è magnetica è abbastanza forte vedete il banco un po si piega quando tiro perché veramente questa lampada si può utilizzare in cento modi diversi tenerla a casa come lampada di emergenza campeggio escursioni il lavoro il muratore che lavora al cantiere il meccanico che lavora su un vano motore veramente si può utilizzare per qualsiasi tipo di utilizzo ed anche per esempio per chi lavora diciamo a contatto con condizioni atmosferiche non bellissime quindi pioggia o direttamente in acqua perché questa lampada è IP68 dove IP international protection 6 significa che praticamente ha una protezione totale per quanto riguarda la polvere quindi anche quelle più settile e può resistere a immersioni permanenti immersioni permanenti a circa un metro metro e mezzo di profondità quindi non sub perché la protezione per la pressione sott'acqua è la 69 ma questa può stare tranquillamente a chi fa qualsiasi sport dove c'è un contatto costante con l'acqua dalla parte superiore quindi questa porta di ricarica deve garantire questa protezione e la garantisce appunto perché vedete il gombino entra proprio dentro la porta USB il tasto di accensione è questo qua sopra che è protetto da queste due sporgenze per le pressioni occidentali abbiamo diverse funzioni ora vediamo di rassumerle velocemente con un click si accende e si è accesa alla minima intensità luminosa che è di 5 lumen in questa modalità è una luce molto debole che ci può tornare utile per illuminare le cose davanti a noi per tanto tempo infatti Wuben dice che in questa modalità ha una durata di 60 ore tenendo premuto passiamo alla media 150 lumen 4.5 ore di autonomia tenendo premuto ancora passiamo alla massima 440 lumen 1.3 ore di autonomia così scorre tra le modalità oppure doppio clic qualsiasi sia la modalità dove siamo passa alla modalità turbo 1800 lumen che poi dopo un po' di tempo circa un minuto scende gradualmente fino a 800 e in questa modalità circa un'ora di autonomia attenzione che dalla media in poi dalla media in poi così come scritto qui questa parte frontale della lampada diventa veramente calda ma calda è a questo punto che non si può tenere che dobbiamo tenerla così ma anche questo incomincia a diventare caldo quindi non è una lampadina da tenere in mano se la utilizziamo in modalità luminosa alta o turbo possiamo tenerla a 30 secondi dopodiché dobbiamo per forza posarla da qualche parte in modalità low e medio si può tenere si può tenere in mano poi abbiamo due modalità che sono la modalità strobo ed sos che ci andiamo con tre clic consecutivi 1.2.3 strobo 1.2.3 sos nella modalità strobo sono 1000 lumen e nella modalità sos 200 lumen questa è la versione da 6500k quindi bianco, bianco ghiaccio c'è anche la versione luce calda da 5000k lo potete scegliere quando lo inserite nel carrello ci sono diverse opzioni anche per quanto riguarda il colore della lampada questo è il colore nero vi faccio vedere degli esempi di illuminazione allora 20 metri di distanza dal cancello ok low guardate medio alta turbo pazzesco ma illumina come se fosse giorno direzionale ma una luminosità pazzesca nel frattempo scalda non poco al limite da poterla tenere in mano allora eccomi qua campo coltivato minima la luce è proprio davanti davanti la rete ha due metri di distanza media alta turbo guardate che potenza però si perde perché non so la distanza vediamo di trovare qualcosa da illuminare considerate che davanti a me la strada è completamente al buio questa è la luce che fa la bici l'engui e p2 pro accendiamo ecco non ci ho visto più allora questa è la luce minima più debole della luce dell'engui media ok già è cambiato qualcosa guardate massimo e turbo 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 è esagerata è direzionale molto direzionale allora qua siamo semplicemente da un lato all'altro della strada bassa media alta e turbo e vi faccio vedere che ho questa torcia mini perché lo so è impossibile è potentissima e devo dire che nonostante faccia una buona luce una buona diffusione è anche abbastanza profonda ottima però effettivamente in mano non si può tenere tanto perché scalda subito siamo al V-Band P1 del costo di solo 9 euro e quando lo comprate dovete vedere il modello della lampada che dovete mettere qui perché cambia il supporto la fascia è di qualità molto alta l'elastico è buono dentro ha una parte gommata così non scivola sia se la mettiamo sull'elmetto che senza elmetto diverse regolazioni che possiamo fare e questo è il supporto per la nostra E7 c'è una slitta e qual è la particolarità di questo supporto che noi prendiamo la nostra E7 la inseriamo qui fino a quando fa lo scatto l'ho accesa e poi la cosa bella è che possiamo ruotare direttamente dalla lampada dallo 0 45 gradi sotto e 45 gradi sopra ed è molto comodo questo quando dobbiamo fare lavori abbiamo bisogno di avere la zona illuminata e contemporaneamente le mani libere e se utilizziamo i guanti come facciamo ad andare a cercare questo pulsantino non ci viene male perché col guanto viene un po' difficile andare a trovare questa posizione Wuben ha pensato al sensore AP40 è un sensore di prossimità che ci fa ci fa comandare la nostra lampada con delle semplici gesture come quelle che si utilizzano negli smartphone quando volete semplificarvi un po' la vita è molto semplice è semplicemente un sensore vedete che si alimenta con la batteria della nostra lampada attenzione quando utilizziamo questo perdiamo l'IP68 perché stiamo scoprendo il circuitino cosa fa questo sensore? ora vediamo se riesco a farvelo vedere consente di accendere la lampada con dei semplici movimenti noi abbiamo il guanto lo avviciniamo una volta e si spegne e si accende lo appoggiamo passa tra le varie modalità due clic veloci turbo spegni oppure uno, due, tre ss praticamente è gli stessi comandi che andiamo a dare al tasto ma li facciamo solo coprendo e scoprendo questo sensore e questa cosa è veramente molto comoda e tutto è spiegato nel manualino incluso ma è veramente veramente molto semplice e questo sensore veramente molto utile costa 9 euro quindi praticamente qui cosa abbiamo 27 euro la lampada 10 e 10 quindi 47 euro e ragazzi vi può sembrare tanto cercate una lampada completa così quindi una lampada così potente che possiamo togliere utilizzare senza il supporto senza la fascia il sensore è una fascia di questa qualità nonostante la Wubben sia uno dei brand più conosciuti per quanto riguarda questo tipo di lampade comunque mantiene dei prezzi parecchio accessibili questa cosa del sensore è veramente molto comoda perché ho le mani sporche o i guanti o qualsiasi cosa quindi accendo ho le mani sporche ho le mani da dentro non vedo bene turbo ok mi chiamo il mio collaboratore per non abbagliarlo mentre ho le mani sporche spengo e parlo ritorno tum e continuo a lavorare veramente molto comoda questa cosa va bene non devo aggiungere altro vi ricordo il link in descrizione e se Wubben me lo fornirà anche un codice sconto se il video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale e attivate la campanella ciao 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 Grazie.